Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video, oggi siamo qui con l'apertura della seconda parte del box Sole e l'una apocalisse di luce è uscito da pochissimo, anche se io lo sto portando qualche giorno di ritardo perché è colpa del corriere e non è colpa mia, quindi Sta tutto storto, molto male, ora sta tutto dritto, possiamo iniziare Allora, stavo dicendo, andiamo con quest'altri 12 pack ragazzi, perché l'ho diviso in tre parti, questo box e 12 aperti nel video precedente In cui ho trovato subito una bellissima carta, andate a vedere il video se ancora non l'avete visto Dopo di questo oppure prima, andate subito a vedere, poi dopo tornate a vedere questo, vabbè non mi interessa, andiamo subito con quest'apertura del pack, su Andiamo con Green Ninja, arrivediamo subito come va questa seconda parte, sperando che vada bene come la prima, anche se ne dubito perché già ho trovato belle cartine nella prima parte Quindi in questa seconda parte potrei non trovare nulla, vediamo un po' Allora, intanto lasciate subito un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti Sulla fiducia ragazzi, vi giuro che troviamo qualcosa di buono Energia, allenatore, Heliolisk, mo' fu così che 12 pacchetti e nemmeno una Jax Spiu, spiupa Non ho mai trovato sta carta È impossibile, comunque, Rockruff Flabebe, Litleo, Cubone, Scatterbark Dubblade, Reverse, attenzione, Avalug raro Quando trovo queste carte rare così, le odio, che fanno i disegni, i disegni? Li fanno brutti? E in più, manco reverse, cioè, ma che ho fatto? Ma comunque ragazzi, qua ci stanno le carte che ho trovato nell'altro video Le togliamo perché non ve le posso far vedere, solo un arvolo Oh, ok, basta, più di così non si può vedere Andiamo con questo secondo pack Con l'artwork di Zygarde Vediamo se ci porterà fortuna per un bel Zygarde Oppure no Allora Io vorrei trovare una bella Hyper, ragazzi Però Mi sento che non la trovo in sto box Hyper Non so perché, comunque Vabbè Andiamo con questo secondo pack Energia Gabite Upa che mangia, come al solito Omari il distruttore Espur Execute Scatterbark Honage Helioptil Magnemite Reverse Attenzione Florgas Raro Niente, ragazzi Come al solito I primi pack non si trova mai niente Non è possibile Proprio Zero I primi due pack non trovo mai niente Al terzo trovo sempre qualcosa di buono Questa volta invece neanche al terzo troverò qualcosa Guarda, eh Sto sicuro proprio Non sai perché? Perché non avete messo like Vabbè, metti like adesso Metti like Siccome ti trovo qualcosa Vediamo, eh Se ci ho indovinato ragazzi Dovrete mettere like sempre Eh bene Ve l'ho detto Tric a quattro Me la suono e me la canto Me la canto e me la suono Energia Amaura Mappascava fossili Digsby Frokey Magnemite Binagore Flabebe Crogan Honedge Reverse Spettacolo Allenatore Olografica 105 di 131 Ragazzi In queste espansioni hanno messo le Allenatore Sia rare Che Olografiche In altre espansioni Mi sa che fino ad adesso Non mi erano mai capitate Non vorrei di una cavolata A parte quelle lì Che erano prisma Non L'hanno mai fatte rare Cioè nell'ultime De sole luna Intendo Poi quelle altre vecchie Sì c'è stavano Però Vabbè comunque Quella Olo Mi piace Mi piace molto Andiamo con questo Quarto pack Sole luna Apocalisse Di luce Di ultra Necrozma Che qua vogliamo trovare Subito un ultra Necrozma E a proposito Di ultra Necrozma Ragazzi Ve l'ho già detto Qualche minuto fa Però ve lo ridico Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Perché Fra poco Apriremo anche Le light Trainer box Cioè il set Allenatore fuori classe In italiano Quindi Dopo se no vi scordate Non venite a vedere il video Peggio per voi Lo dico per voi Mica per me Energia Frogadier Spiutepa Clefki Pancham Skiddu Noibat Inkai Fennekin Heliolis Reverse Heliolis Reverse Rotom Questo Heliolis Reverse C'ha una cosa Una specie De lineetta Che voi sicuramente Non la vedrete Da lì Cioè da lì Dal video Però dal vivo Si vede Tipo ecco Sta fra il bordo E la parte Quella Reverse Una lineetta Che passa per tutta La carta Ma dietro Non c'è niente Vabbè Era tanto per dire Ragazzi Per ingannare L'attesa Perché c'è Qui Vabbè che dobbiamo Aprire i pacchietti Tutti di corsa Però Un minimo di Stare in vero Allora Andiamo con questo Quinto pack Ragazzi Qua se non troviamo Una GX Spacco tutta La Non spacco niente Ragazzi Scherzo Che spacco Così oltre a non trovare niente Spacco pure una cosa Che so Un bacille Trick a 4 E andiamo con Energia Allenatore Uxxi Ragazzi Tutti e tre L'abbiamo trovati Mesprit Tazelf Uxxi Energia Unione Che non troverò mai In versione fuori serie Flabbe Gibour Clownchair Noibat Pancham Go go Reverse Attenzione Pangoro Proprio Incazzatissimo Ragazzi Pugno 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 Rompente E doppio Pestone Non so per colletto La mossa Stavolta Però vabbè Anche questo Quinto pack Se ne va E andiamo con Il Sesh Two pack Six pack Ragazzi Eccolo qui Questo qui Addominali Six pack Non si scherza A proposito di Six pack Sto dietro Lo sapete già Però ve lo dico sempre Perché sono attualmente triste Che smorto di fame Ogni volta che C'ho bisogno di condividere Questa tristezza Con tutto il mondo E andiamo con questo Sesto pacchetto Ragazzi Ritendo scherzando Qui stiamo facendo Altri spiritosi Però Cioè Solo io Sto facendo lo spiritoso Anche se in realtà Non so spiritoso Però Non sto trovando un cavolo Ragazzi Quindi qui ci vuole subito Un cubon Scatterbug Snoover Scrap Bunelby Sligureverse Attenzione Ultra creatura Olo Ma il Bazzol non era Olo Però O sbaglio Prima ho trovato Se avevamo prima La ritrovo Ciao Comunque Nell'altro video Ho trovato Bazzol C'era scritto Ultra creatura Ma non era Olo Quindi hanno fatto Solo questa Questa cosa Non mi piace molto Oppure era Olo Ma non mi era accorto Strano Comunque Ferromosa Olo Spettacolare Che mettiamo subito Qua dietro Perché tanto Se qua non trovo niente È meglio che la mettiamo là 4 5 6 Settimo Pec Questo qua Che potrebbe far cascare tutto Speriamo che non casca Con GX subito Immediatamente All'istante proprio Cioè Io neanche devo fare il trick Che già vedo la GX Se no Molto male Trick a 4 E andiamo con Energia Brakesen Dublet Arbitre Rooney Bergman Honey 4 for all Kibu Hazard Reverse Attenzione Zygarde GX Spettacolare Subito una GX Se volete ragazzi In questa parte Stiamo trovando un bel cavolo Zygarde GX Guardate gli occhi Spettacolari Che mettiamo subito Nella sleeve Prima che si rovina Verdetto GX 150 Io direi di mettere Questo Zygarde Subito nella sleeve Perché se no Poi dopo Ce se rovina E lo mettiamo Qua dietro Da sfondo Sopra Dianza Dianza Come si legge Dianza 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 Credo Boh non lo so Perché sono ignorante Quindi andiamo con questo Pack di Zygarde Che siamo 2-4 2-4 6-6 Ottavo pacchetto Zygarde E vediamo Cosa troviamo Lo Zygarde Già l'abbiamo trovato Quindi qua non possiamo trovare Un altro Zygarde A meno che È uno Zygarde Full Art Oppure Hyper Ma ne dubito Perché sappiamo già Che non lo troverò Perché quando io trovo Una Full Art È sempre una Full Art Allenatore Ragazzi non ci piove Se io trovo una Full Art Nel box È una Full Art Allenatore Proprio matematico Soprattutto in quelli giapponesi Energia Dow Blade Digger Tree Heliolisk Magrimite Screlp Furfur Little Eo Fennekin Gible Reverse Attenzione Il mio stick raro Che l'abbiamo trovato Tipo in quindicesimesima Copia Non ho trovati troppi 4-8 Nono pacchetto E vediamo Cosa troviamo Allora Qua ci troviamo subito Una carta buona Marrabbi Io lo dico Perché voglio trovare Un'altra GX Forza Su Abbiamo trovato solo 2 Fino adesso Carta codice Togliamo Trick A4 Che trichiamo E andiamo Con Attenzione Energia Allenatore Messprit C'è qualcosa Allenatore Ultramondo Pancia YouPilot Fennekin Heliolisk Flapio Vecchio Espur De Vecchio Attenzione Ultranecroma GX Full Art Spettacolare Dopo la pupata Che mi ero fatta Solo Subito La Full Art Non è allenatore Ma è Ultranecroma GX Quella che volevo trovare Non so se ve lo ricordate Nel primo video Che vi avevo fatto vedere Spettacolare Spettacolare proprio Ragazzi se non si vede bene Perché me la sto a vedere io Le persone Diciamo Kaiser Fotonico Mamma mia Foto di istruzione Celeste GX Ragazzi questa qua È spettacolare L'artwork Tanta roba Questa qua subito su Instagram La metto come foto Quindi Se non mi seguite È Full Art Sì Ne ho trovato una fuori serie Ah beh Se non mi seguite Ancora su Instagram Seguitemi Perché metterò subito La foto di questa carta Spettacolare 127 di 131 Ultra Necrozma GX Spettacolare Ci stanno chiamando Eh Eh non posso venire Sto facendo Il video dell'anno Del secolo Dell'universo Perché ho trovato Ultranecroma E tu mi distrai Dicendo di venire là Non posso Porca miseria 4 8 9 Fra tre pacchetti Sto facendo video Non posso Allora 4 8 9 Andiamo con questo Decimo pacchetto Con l'artwork Di Ultranecroma Anche se non credo Che troveremo Un altro Ultranecroma Perché Basta Con gli Ultranecroma Basta Adesso voglio un Xerneas Hyper Così a caso Energia Ti a fuoco Braixen Arenatore Zygarde Espur Honage Neubat Gible Exeguit Magneton Reverse Attenzione Magretone Magneton O Magneton Come vi pare Nello stesso pack Spettacolo Io fra tre minuti Vengo Se state zitte Non parlate Ben andata Arrivo fra pochissimo Vabbè Non c'è se fine Oh Non l'avevo visto Ha trovato Magnemite Al primo pack Magneton Si ciao Magneton E Magneton Se lo trovo Reverse Tutte e tre Spettacolo Allora Andiamo con questo Quattro Otto Nove Dieci Undicesimo pack E il dodicesimo Sarà questo Di Zygarde E poi Findiamo qua La seconda parte Perché Se no dura troppo Come quell'altra E andiamo con Attenzione Qua c'è l'hyper Me lo sento Non è vero Non è vero Non me lo sento Tric a quattro E andiamo con Questa carta Che Boh vabbè E vediamo Cosa troviamo Abbiamo Energia Uxi Lady Hupa Lady Hupa È spettacolare Bunelby Così a caso Onage Execute Noibats Piupa Reverse Attenzione Finito il fiato Sylveon Rara Che non ci facciamo Uno pelo niente Proprio niente Ci facciamo con questo Sylveon Comunque abbiamo Due Quattro Sei Otto Dieci Undici Dodicesimo pack Questo con Zygarde Qua dobbiamo trovare Niente ragazzi Perché ho già trovato Una full art E una GX E poi La full art Era quella che volevo Spettacolo proprio Subito Ma ve l'ho detto Di mettere like Mi sono scordato Mettiamo subito un like Per questo Ultra Necrozma GX Io me lo metto sicuro Però l'avrei messo Comunque Perché se non avessi trovato niente Perché sono un po' furbo Però Carta codice che togliamo E andiamo con Trick a 4 E vediamo subito Cosa troviamo in questo Ultimo pack Anche se non credo Che sia fortunato Perché già siamo stati Fortunati molto C'è qualcosa C'è una prisma C'è la prisma Ultra Creatura Poiple Ragazzi Spettacolare Che ci sta in versione Shiny Nel pacchetto Quello promo Giapponese Che però tanto Non troverò mai Colucia Energia Unione Four for all Skiddu Gumi Fennekin Inkai E attenzione Energia Creatura Prisma Spettacolari ragazzi E poi per finire Ultima carta Un Eatran Raro Così Che è lo stesso Che ci sta In Ultra Prisma In versione promo No Sto di una cacchiata Vabbè lasciamo perdere Energia Creatura Prisma Che mettiamo subito Nella sleeve Perché mi mancava Spettacolo Però mi sembra di energia Ah no era energia in colore Che c'era Nell'altra Boh mi ricordo Vabbè Comunque Questi altri 12 pack Non sono andati Niente male Perché abbiamo trovato Energia Creatura Prisma Zygarde GX E Ultra Necrozma GX Full arte Che Chi non conoscesse Le full arte Potrebbe dire anche Che questa sarebbe Una Sarebbe Potrebbe essere Una bellissima Fuori serie Hyper spettacolare Perché a guardare L'artwork E tanta roba Però È una full arte Inutile che ci vogliamo Fare in neri Quindi Spero questo video Vi lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Perché ci sono moltissimi Altri video da vedere Molti che ci sono già sul canale Che andate a vedere tutto Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Già ve l'ho detto Però mi sto ripetendo Perché sto al carico Ragazzi Ho trovato una full arte Che volevo Quindi Seguitemi anche su Instagram Ma già ve l'ho detto Il nome tanto è Leonardo Barra sotto Avete capito E no Leonardo Leo Barra sotto Come mi chiamo? Di usare pure L'altro profilo vecchio Quindi vabbè Like, subscribe, share E tutto quello che volete Ci vediamo nella terza parte Ragazzi Nella terza parte E qua troviamo Una hyper Sono sicuro Non lo sento Come La musica Come la musica Ma che cazzo ho detto Iscrivetevi al canale